Continuano in maniera serratissima le indagini per individuare gli autori del brutale assassino di Antonietta Gigante, la 76enne trovata morta nel suo appartamento di Licola sabato sera. Gli uomini del commissariato di polizia di Pozzuoli stanno interrogando diverse persone, tra queste anche alcuni pregiudicati della zona. Le indagini starebbero privilegiando la pista della rapina, tra l'altro solo due giorni prima dell'assassinio Antonietta Gigante aveva denunciato un altro furto in casa. Non si esclude però che possa trattarsi di una vendetta o di una ritorsione per un comportamento dell'anziana donna ritenuto scorretto, magari anche compiuto da qualche stretto parente. Una vita a prima vista cristallina quella di Antonietta Gigante, eppure ci sono legami familiari che potrebbero far pensare il contrario, come il suo legame di sangue con il boss Gennaro Longobardi, storico capo dell'omonimo clan di Pozzuoli. Soltanto ipotesi per ora, alle quali però si sta lavorando alla cremente. La sensazione che si respira è che gli assassini di Antonietta Gigante abbiano le ore contate. A far loro terra bruciata intorno potrebbero essere gli stessi colleghi dei malviventi, dopo un crimine così efferato contro una donna sola in casa. Determinanti saranno le risultanze dei rilievi scientifici effettuati nell'abitazione della donna. Una banconota da 50 euro è stata ritrovata sulle scale che conducono al piano superiore dell'abitazione, probabilmente persa dai malviventi durante la fuga, ma potrebbe trattarsi di un tentativo di depistare le indagini. Sangue dappertutto è quello che hanno trovato i poliziotte all'interno dell'abitazione, il che potrebbe far sorgere dubbi sull'esatta dinamica dell'omicidio. La donna è stata infatti trovata sul suo letto, con i polsi legati, quindi il sangue lungo le scale potrebbe non essere il suo, ma di uno degli assassini rimasto poi ferito. Anche in questo caso un apporto decisivo arriverà dall'esito degli esami effettuati dalla scientifica. Grazie. 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 Grazie.